Rivediamo il gol del Milan, tutto nasce dal calcio in alto. Ha anticipato i difensori, vedendo l'assist del compagno alle spalle del portiere. Questa non è una punizione, è una pennellata da grandissima acquista. È uscita a parte del portiere con una punizione d'antologia. È una conclusione perfetta che non ha dato davvero scampo al portiere. Grazie a tutti.